Siamo a Roma, Piazza San Pietro, domani si gioca Lazio Cremonese, noi siamo già qua, ma questo video è dedicato alle parole di Mr. Ballardini in conferenza stampa pre partita perché le ho trovate particolarmente significative. Sono le parole di un tecnico che nonostante la retrocessione potrebbe restare, ma è palese che vuole garanzie dalla società su quello che sarà il progetto. La determinante è quella. Che cosa vuole fare la Cremonese? Quali sono i progetti? Se il progetto lo convince, credo che Ballardini sarà allenatore della Cremonese anche l'anno prossimo. Se non dovesse convincerlo, anche se c'è il contratto, sappiamo benissimo come funziona nel calcio. Quindi sta tutto alla Cremonese. Allora pensiamo alla partita di domani e speriamo di farci onore.